Ragazzi, buonasera a tutti, qui è Mr. Lob dal Minerva Studio e stasera vediamo come comprimere la voce in un mixtrap, ma lo vediamo dopo la sigla. Eccoci qua ragazzi. Allora, stasera parliamo di compressione sulla voce in un mixtrap. Ma prima di andarvi a far vedere praticamente cosa fare, è bene fare una piccola premessa su quella che è la compressione. Perché? Capire la compressione nella curva di apprendimento di un ingegnere del suono è forse una delle cose più difficili se la gioca a pari passo con l'effettistica, cioè capire quali effetti, quanti effetti, ok. Però capire la compressione è veramente uno di quelle skills da sviluppare, che ci vuole tanto tempo per farlo, perché non è immediatamente percepibile la sua funzione, non è immediatamente percepibile. Al contrario dell'equalizzazione, è chiaro che se noi diamo più 3db, 6db sui 10k su una voce, si sente la differenza, ok. Nella compressione non è proprio così immediata, però il compressore è uno di quegli elementi che, se imparati ad usare, ci fanno veramente svoltare la nostra carriera, ok. I nostri mix in generale è un po' tutto. Naturalmente in questo video non si può spiegare tutto quello che è la compressione sulla voce, però vi do delle dritte basi su cui partire, con cui puoi studiare e su cui costruirvi il vostro modus operandi in merito alla compressione. Già con quello che andremo a vedere qua, sarete in grado di comprimere le voci in maniera giusta. Quali sono gli step, tra virgolette, che bisogna fare per la compressione? Allora, quando si inizia questo mestiere c'è la tendenza a voler comprimere tutto, anche se non si capisce effettivamente che cosa fa il compressore e a cosa serve. Ecco, perché ora andremo a chiarire prima cosa fa il compressore e a cosa serve, e dopo andremo a vedere come utilizzarlo in pratica. Sostanzialmente il compressore cosa fa? È un processore di dinamica che serve a gestire la dinamica di una traccia. Qualcuno direbbe serve a ridurre la dinamica di una traccia. Ci sta come definizione teorica, però praticamente non mi piace utilizzare questa definizione perché in realtà noi con il compressore gestiamo quella che è la dinamica della traccia e non solo. Diciamo che all'inizio, ecco, per chi inizia il compressore serve a gestire la dinamica della traccia e quindi la presenza dell'elemento all'interno del mix. Però successivamente voi quando imparerete ad utilizzare bene i compressori a capire prima che cosa serve un compressore, cosa fa, e successivamente a capire quale compressore utilizzare, perché ovviamente i compressori non sono tutti gli stessi, e ogni caso ha bisogno del suo compressore, allora comincerete ad utilizzare i compressori in maniera creativa, cioè non solo per gestirmi la dinamica e la presenza dell'elemento all'interno del mix, ma anche per colore, per dare la caratteristica di quel compressore a quel suono, lo utilizzerete in parallelo per fare altre cose, comincerete un po' a capire cosa farci, ok? Vi faccio un esempio semplice. Quando voi prendete una penna in mano, all'inizio avete imparato a scrivere, la prima cosa che avete fatto con la penna avete imparato a scrivere, ok? Poi una volta che avete acquisito quella competenza bene, di base, cioè scrivere con la penna, avete cominciato a capire che con la penna era possibile non solo scrivere, ma anche disegnare, fare quadri, colorare, ok? Fare degli schizzi. Stessa cosa con i compressori. All'inizio bisogna capire bene come funziona, poi, dopo che si è capito bene come funzionano, bisogna capire quando utilizzarli, e la terza fase è capire quale compressore utilizzare per fare che cosa. Quindi dicevamo che il compressore serve a gestire la dinamica, però qui c'è una cosa che va precisata. Allora, il compressore non lavora sui singoli transienti, ma lavora sull'inviluppo del segnale. Questa è una cosa molto importante da tenere in conto, perché, ovviamente, questo qui servirà a settare bene attacco e rilascio. Però, come forma mentis, voi dovete tenere in mente che il compressore lavora sull'inviluppo del segnale. Per inviluppo che cosa intendo? Ecco, facciamo così. Guardate, questo è il nostro segnale. Ok? Questo qui è già l'inviluppo del segnale. Questo è l'inviluppo. E all'interno, questo inviluppo, avrà tanti, come dire, tanti spike, ok, chiamiamole così, di segnale, perché vengono campionati, ok? Però, sostanzialmente, questo è l'inviluppo. E il compressore lavora su questo. Cioè, se noi abbiamo un singolo picco, non lavora sul picco, ma sull'inviluppo di quel picco. Beh, detto questo, che succede? Che se noi abbiamo una traccia, ok, dove c'è un picco più alto e un picco più basso, quando noi andiamo a comprimere questa traccia, succede che il picco più alto viene ridotto di gain, mentre il picco più basso viene aumentato di gain. Quindi, che cosa succede? Pensateci bene. L'RMS della traccia, che è il valore medio, ok, della traccia, naturalmente sale, perché se il valore medio è calcolato sulla media tra picchi e valli, se io abbassi i picchi e alzo le valli, la media naturalmente aumenta, ok? Questo aumento di RMS fa sì che l'elemento compresso salti in faccia all'ascoltatore. Quindi, in realtà, noi andando a comprimere aumentiamo l'energia dello strumento trattato. Altro parallelismo che ci può interessare è la compressione dell'aria. È la stessa cosa. Quando voi comprimete un quantitativo di gas, perché ha fatto Fisica 1 all'università, questa, se non l'avete fatta, comunque ve lo spiego io, quando voi comprimete un quantitativo di gas, succede che diminuisce il volume, però aumenta la pressione. È un po' quello che succede qua, diminuisce la dinamica, però aumenta l'energia, ok? Come parallelismo. Quindi, a livello base, vi basti sapere che la compressione agisce in questa maniera. serve per proprio far saltare in avanti lo strumento all'interno del nostro mix e per controllarlo. Controllarlo cosa intendo? Per esempio, nel low end, quando c'è il kick, lo snare, kick e basso più che altro, se non sono ben controllati i kick e basso, vanno ad occupare tanto spazio nel nostro range dinamico del master bus. Noi, quando, vi faccio vedere. Allora. Questo è il nostro master bus, ok? E in digitale noi abbiamo un range dinamico che va da meno infinito a zero. Ok? Se io arrivo oltre lo zero, vado in distorsione. quindi io devo stare lontano da questo zero per cui dovrò sfruttare tutta questa dinamica da meno infinito a zero, questa possibilità che io ho per non far clippare il mio segnale con tutto il mix. Ovviamente tutti gli elementi si sommano e vanno a finire qua. Però c'è un discorso che gli elementi percussivi quale possono essere kick e snare per esempio che sono quelli che danno la botta hanno una struttura di transiente. Cioè sono un colpo pam pam e questo mi fa saltare ovviamente il meter e il il meter si chiamiamolo così per cui io devo ridurre questa dinamica perché non è che ho bisogno di un kick che mi arriva da meno infinito a zero non c'è bisogno di questa dinamica però riduco la dinamica e aumento la potenza perché la sensazione percepita dal mio orecchio tra l'altro si li fa all'RMS ok giusto per capire perché il compressore serve anche a volte sentite dire per controllare il low end parolina magica praticamente questo cioè io controllo la dinamica del kick in maniera tale che non mi sbalza il mio meter e quindi ho più headroom per andarla ad utilizzare il master ok questo è un po' tutto il discorso detto questo naturalmente il la compressione sulla voce è una compressione molto delicata che bisogna trattarla in in una determinata maniera perché perché la voce a differenza di per esempio un piano che magari è sempre lo stesso in tutta in tutta l'esecuzione ok perché nelle melodie trap di solito si fa un giro e poi lo stesso giro si mantiene per tutto per tutto il il brano stessa cosa anche per il drum kit alla fine si fanno si fa una quartina la stessa quartina si ripete per tutto il per tutto il beat per cui una volta che noi impostiamo i settaggi di compressione sono quelli per tutto il beat la voce cambia e cambiando la voce naturalmente dobbiamo settare i valori di compressione che ora andremo a vedere quali sono in maniera tale da garantire che tutta la parte della riproduzione musicale sia uniforme altra cosa interessante è che la voce è uno degli elementi principali all'interno del mix quindi comprimere bene la voce vuol dire far risaltare la voce all'interno del mix vuol dire riuscire un buon mix perché è inutile fare 808 banger kick che picchiano in maniera assurda clap spettacolari pan synth incredibili e poi sbagliare la voce capite che è qualcosa che non va piuttosto io dico è meglio fare la voce bene e il messaggio arriva piuttosto che magari all'inizio sbagliare tutto il resto e questo ci sta anche tutto bene detto questo ora andiamo a entrare più nello specifico questa era una premessa doverosa dell'argomento allora ho utilizzato questo compressore il procedure della FabFilter non perché sia un compressore speciale o quant'altro ma semplicemente perché dal punto di vista didattico è molto utile in quanto vi faccio resti poggiato al muro come un poster vedete cresciuti in queste strade qui si riesce a vedere quello che effettivamente fa il compressore il comportamento del compressore e dal punto di vista didattico ripeto è un grande compressore adesso andremo a vedere i principali le principali manopole chiamiamole così del compressore i principali settaggi del compressore e poi vedremo di comprimere questa questa voce ok allora metto le cuffie e vediamo un po' questa voce che dice ok allora prima cosa di tutto ovviamente andrebbe fatto un minimo di equalizzazione perché insomma facciamo una cosa veloce veloce visto che siamo in termini in temi di Fab Wilton nessuno ci ha mai dato le risposte ok resti poggiato al muro come un poster cresciuti in queste strade senza ostas nessuno ci ha mai dato le risposte eh tutti questi questi picchi che non ci servono strade senza ostas nessuno ci ha mai dato le risposte ok resti poggiato al muro come un poster cresciuti in queste strade senza ostas Nessuno ci ha mai dato le risposte. Ok. Resti poggiato al muro come un poster. Cresciuti in queste strade senza ostas. Nessuno ci ha mai dato le risposte. Ok. Ecolizzazione veloce. Abbiamo tolto quei... come si dice in italiano? Quegli impulsi. Ecco. Scusate se a volte in italiano non so come si dicono. Dice però, siccome gli studio dagli ingegneri americani, mi viene proprio spontaneo di dire Pulse. Però in effetti sono impulsi. I picchi iniziali che non ci servono. Poi ho tolto un po' di stanza. Questa è un'altra cosa interessante. Ho tolto un po' di stanza intorno ai 350 perché c'era. E ho dato un po' di presenza intorno ai 3.5K. 3.6. Comunque. Intorno all'ecolizzazione. Molto veloce. Giusto per non avere proprio un segnale. Ok. Che poi, se no, ma che cosa... anche per fare bella figura perché se no dice... Ok. Detto ciò, andiamo a vedere il nostro compressore. Allora, sostanzialmente le manopole, i parametri, ecco, non mi veniva, i parametri principali di qualsiasi compressore, tranne alcuni che poi dopo vedremo quali sono, sostanzialmente sono Trishold, Rescio, Attacco e Rilascio. Ovvero, la Trishold è la soglia. Cioè, questa soglia mi dice, guarda... Quando il compressore, quando il segnale oltrepassa la soglia, è come se fosse una sentinella. Ogni volta che il segnale oltrepassa la soglia, l'algoritmo dice al compressore, ah, guarda, il segnale ha oltrepassato la soglia, intervieni. Quindi, intervieni cosa vuol dire? Riduci la... Riduci la dinamica che tradotto in realtà sarebbe riduci il gain, cioè abbassa di volume questo picco che ha superato la soglia. Di quanto devo abbassarla di volume? Questo ce lo dice il ratio. 4 a 1 vuol dire che per ogni db che supera la soglia viene abbassato di 4. Ok? Quindi, se il segnale supera la soglia di 2db, viene abbassato di, se ogni db vale 4, di 8db. Ok? In effetti, se voi, vedete, se io aumento la ratio, diventa man mano sempre op, drizza, drizza così vuol dire nessuna ratio, cioè quello che entra è uguale a quello che esce. Ok? Quello che entra è uguale a quello che esce. Se invece aumento il ratio fino al massimo, praticamente questo compressore si comporta da limiter, cioè non fa passare nessun tipo di segnale che arriva. Ok? È chiaro perché se io ho una ratio di 1 a 100, per ogni db che passa ne devi abbassare 100, è chiaro che non passa niente. È una cosa logica. Perfetto. Poi, tra il minimo, cioè il nullo, e il massimo c'è tutto il mondo. Valori di ratio classica sono 2 a 1, compressione molto blanda, 4 a 1, compressione, diciamo, media, quella che si usa di più, poi c'è 8 a 1, 12 a 1, 20 a 1, già 20 a 1 siamo in quasi un limiter. Ok? E poi c'è limiter. Però rimaniamo sul 4 ad 1. E quindi abbiamo capito anche cosa serve la ratio. Poi, attacco e rilascio. Allora, attacco e rilascio sono due parametri, ovviamente, come si intende già dalla parola, attacco e rilascio sono due parametri temporali. Cioè, io dico al mio compressore, l'attacco gli dice, dopo quanto tempo che il mio segnale ha superato la soglia, devo intervenire. Supponiamo che il mio segnale, il mio picco, superi la soglia e mantenga, per questo vi dicevo che il compressore agisce sull'inviluppo, perché supponiamo che c'è questo segnale che supera la soglia e mantiene la sua permanenza oltre la soglia per 20 millisecondi. Ok? Quindi mantiene per 20 millisecondi. se io setto il compressore l'attacco a 25 millisecondi, cosa vuol dire? Che il compressore non interviene. perché il tempo di attacco è maggiore rispetto al tempo che il nostro segnale ha mantenuto oltre la soglia. chiaro che se il mio segnale dura 20 millisecondi e io il mio compressore gli dico intervieni dopo 25, sei arrivato un po' in ritardo, mio caro, l'appuntamento era un po' prima, per capirci. al contrario, se io invece setto l'attacco a 7 millisecondi, vuol dire che dopo 7 millisecondi che il mio segnale ha oltrepassato la linea di threshold, il compressore interviene. quindi, comprimerà il mio segnale per quanto e in questo caso interviene il tempo di rilascio. Cioè, mi dice 10 millisecondi, il minimo vuol dire che dopo 10 millisecondi che il compressore è entrato in funzione fallo smettere di funzionare. Quindi, se io setto a 7 millisecondi il mio segnale dura 20 millisecondi i primi 7 millisecondi non vengono compressi. Il compressore interviene dopo 7 millisecondi da quando il segnale passa. Per 10 millisecondi comprime e i restanti 3 millisecondi perché sono 10 più 3 è 13 più 7 è 20 smette di comprimere. Per cui io avrò una coda non compressa e il mio segnale verrà compresso solo nel mezzo del mio programma musicale. Se io invece setto il rilascio a 87 millisecondi cioè dopo 87 millisecondi che il mio compressore è entrato in azione fallo smettere di comprimere. Tutto il segnale verrà compresso perché se dura 20 millisecondi i primi 7 non vengono compressi gli altri 13 siccome dura 87 millisecondi vengono tutti quanti compressi. E perché questo è importante? Quindi, ricapitolando attacco e rilascio servono a farci a setta il compressore dopo quanto tempo deve intervenire e dopo quanto tempo deve smettere di intervenire. Questo è molto importante perché ora lo vedremo praticamente in maniera tale che ve ne rendete conto. Allora partiamo da attacco Allora, come potremmo fare? Facciamo attacco al massimo e rilascio al massimo. Allora Cresciuti in queste strade senza ostas Nessuno ci ha mai dato le risposte Allora qua la threshold vedete questo compressore vi fa capire quanto segnale entra questa linea verde e quindi quanto noi stiamo comprimendo. Ok Resti poggiata al muro come un poster Cresciuti in queste strade senza ostas Nessuno ci ha mai dato le risposte Vedete se io comprimo metto la threshold completamente giù a terra vuol dire che il mio compressore comincerà ad intervenire praticamente non appena il segnale parte per cui ho totalmente schiacciato la mia voce e ho ridotto totalmente la dinamica e di conseguenza il gain della mia traccia infatti Meno 42 decibel di compressione Ok Qui ci fa vedere di quanto stiamo comprimendo Nessuno ci ha mai dato le risposte Ok Resti poggiata al muro come un poster Cresciuti in queste strade senza ostas Nessuno ci ha mai dato le risposte Ok Se di B stiamo comprimendo va bene ma ora concentriamoci su attacco e rilascio Ok Resti poggiata al muro come un poster Quindi attacco e rilascio sono settati rilascio al minimo quindi 0,005 millisecondi vuol dire che non appena parte il segnale il compressore interviene Ok perché cioè 0,005 millisecondi di tempo affinché il compressore interviene praticamente è il nulla il compressore interviene subito Ok questi ovviamente sono tempi che si possono ottenere in digitale ma con i compressori veri questi 0,005 millisecondi è impossibile fare un'architettura analogica vera che abbia questi tempi di azione però in questo caso didatticamente può essere interessante capirlo e notiamo cosa succede qua star cresciuti in queste strade senza ostas nessuno ci ha mai dato le risposte Ok vedete qua viene compresso e poi subito dopo si riapre perché il rilascio è velocissimo quindi succede che io comprimo l'attacco però non vado a ridurre il gain della restante parte della parola e questo è una cosa che ci deve far pensare supponiamo che noi vogliamo ridurre gli attacchi di battuta per esempio come un poster stave senza ostas e ci sono alle alle consonanti poster ostas ok vogliamo ridurre solo quelli e non tutto il resto quindi come setteremo noi a livello logico il nostro compressore useremo un attacco veloce perché deve intervenire prima ancora che la sillaba sia pronunciata e un rilascio veloce perché io voglio che la seconda parte della parola non sia compressa al contrario invece se io non voglio comprimere la prima parte della parola e quindi non far perdere l'attacco alla mia sillaba cioè io voglio che le consonanti si sentano a differenza di prima in cui io le ho smussate le consonanti ma voglio che le consonanti si sentano devo fare in modo che la consonante passi che il compressore intervenga dopo che la consonante sia passata quindi l'attacco deve essere più lento e il rilascio punto interrogativo il rilascio se noi lo sentiamo troppo veloce guardate cosa succede allora io aumento l'attacco resti poggiato al muro come un poster cresciuti in queste strade senza ostas vedete anche come diminuisce il grado di compressione perché il compressore ovviamente interviene dopo nessuno ci ha mai dato le risposte ok resti poggiato al muro come un poster cresciuti in queste strade senza ostas nessuno ci ha mai dato le risposte guardate ok resti cioè sostanzialmente il compressore attacca e interviene però il rilascio al massimo fa in modo che la mia linea di riduzione del gain continua a permanere e questo è una catastrofe sulla voce perché io l'attacco lo faccio bene però poi tutto il resto mi viene smorzato ascoltate sti poggiato al muro come un poster cresciuti in queste strade senza ostas c'è proprio l'effetto pumping sti poggiato al muro come un poster perché nelle seconde frasi il compressore è ancora attivato quindi riduce ok per cui avendo presente questi questi massimi estremi di rilascio al massimo attacco al massimo quella che è veramente un'arte della compressione è riuscire a settare bene attacco e rilascio a seconda della riproduzione del brano nessuno ci ha mai dato le risposte ok resti poggiato al muro come un poster cresciuti in queste strade senza ostas nessuno ci ha mai dato le risposte ok resti poggiato al muro come un poster cresciuti in queste strade senza ostas nessuno ci ha mai dato le risposte ok resti poggiata al muro come un poster cresciuti in queste strade senza ostas nessuno ci ha mai dato le risposte ok diciamo che così può andare perché questa è una riproduzione musicale dove le voci diciamole così l'esecuzione canora è fatta con una cadenza non troppo frequente resti poggiata al muro come un poster pausa quindi qua è come seoretta pausa ok immaginate voi che avete un pezzo in extra bit capite là come attacco e rilascio devono essere ok per questo vi dico che è impossibile dirvi la ricetta segreta di attacco e rilascio perché in realtà non c'è chi vi dice dovete settare l'attacco e rilascio in questa maniera semplicemente vi prende per il culo perché non è vero quello che dovete fare voi è capire come lavorano attacco e rilascio cosa fanno cosa servono e poi adattarli a quello che è la vostra il vostro programma musicale ok resti poggiata al muro come un poster ora altra cosa interessante da notare come ovviamente in queste strade senza ostas si sia ridotta il volume di uscita del nostro del nostro programma musicale perché noi comprimendo stiamo in qualche modo attenuando il gain quindi andiamo a ridare nessuno ci ha mai dato le risposte ok resti poggiata al muro come un poster guardate interessantissimo qua cresciuti in queste strade senza ostas nessuno ci ha mai dato le risposte ok noi abbiamo la stessa percezione di volume resti poggiata al muro come un poster anzi possiamo anche addirittura cresciuti in queste strade senza ostas nessuno ci ha mai dato le risposte vedete qua questo è l'ingresso e questa è l'uscita il picco di ingresso è più alto il picco di uscire è più basso però l'energia proprio perché abbiamo in un certo qual modo alzato la media tra la dinamica del picco di ingresso e del picco di uscita c'è la dinamica tra il punto di intensità maggiore del suono e il punto di intensità minore si è ridotto perché abbiamo compresso quindi è aumentato l'erms e la percezione della mia della voce è molto più solida innanzitutto e soprattutto io la percepisco più intensa nonostante il livello di uscita di picco sia inferiore cioè non so se mi spiego per cui capite l'importanza della compressione quando si dice low end controllato la voce controllata cioè non c'ho i picchi che mi sparano sono molto più bassi rispetto a quelli in ingresso però la mia sensazione uditiva è aumentata ascoltate facciamo velocemente una b connessenza ok resti poggiata al muro come un poster cresciuti in queste strade senza ostas nessuno ci ha mai dato le risposte ok resti poggiata al muro come un poster cioè vedete come la voce è qua la voce è qua nonostante il livello di picco di uscita sia inferiore rispetto a quello in ingresso è cresciuti in queste strade senza ostas nessuno ci ha mai dato le risposte vedete questa è l'RMS il livello di energia è pressappoco simile leggermente superiore a quello in uscita ma stiamo parlando di un dB però quel dB fa la differenza mentre il valore di picco proprio perché abbiamo ridotto la dinamica e l'abbiamo controllata è inferiore questa è una cosa molto importante dicevo notate come la voce quando il compressore sparisce quando viene bypassato vi va dietro vi arriva qua e quando viene ingaggiato boom vi passa davanti in inglese dicono the comp grab your voice and put it in face of you prende la voce e te la grab sta significa afferrare l'afferra e te la porta in faccia facciamo una B di nuovo veloce ok resti poggiata al muro come un poster cresciuti in queste strade senza ostas nessuno ci ha mai dato le risposte ok resti poggiata al muro come un poster ecco perché vi dicevo all'inizio che la compressione è una delle arti più difficili da padroneggiare perché sono differenze veramente minime cioè se voi non ci fate caso non capite effettivamente ma sto compressore a che mi serve a fare questo a farvi portare la voce in faccia diminuire la dinamica della traccia che non serve aumentare l'RMS a livello base il compressore serve questo quindi quando voi nel mix dite mamma mia c'è questa voce che non la sento presente sono due cose che potete fare o aumentate gli date un po' più di father quindi di presenza all'interno del mix però dando father vi aumenta anche il picco quindi può essere che vi sballa un po' tutta la gestione del game staging oppure potete comprimerla e dargli un po' più di energia e farla andare avanti questo a livello base ok poi poi con il compressore per esempio giusto un esempio così veloce non mi ci soffermo perché è una cosa molto avanzata però cresciuti in queste strade senza ostas nessuno ci ha mai dato le risposte così voi la voce la percepite più vicino o più lontano bravo più lontano per cui la compressione può essere utilizzata anche per avvicinare o allontanare uno strumento all'interno del mix e questi avvicinamenti e allontanamenti non sono così drastici però possono essere fatti in maniera anche sottile in maniera soft e questo vi fa fare la differenza perché il nostro orecchio riesce a percepire la direzionalità di un oggetto in base alla caduta ai transienti se io faccio cadere una penna faccio cadere questa penna qua quando batte il transiente che mi che provoca mi fa capire da dove la penna viene però se questo transiente è ridotto io naturalmente la penna la percepisco caduta più lontano questo è uno dei metodi creativi per usare i compressori però ovviamente è molto avanzato un'altra cosa interessante ma non mi ricordo dove era qui vabbè è ok resti poggiato al muro come un poster questo compressore vi dà la possibilità di ascoltare ciò che state togliendo cresciuti in queste strade senza ostas nessuno ci ha mai dato le risposte ok resti poggiato al muro come un poster cresciuti in queste strade senza ostas nessuno ci ha mai dato le risposte ok resti poggiato al muro come un poster cresciuti vedete come abbiamo fatto bene attacco e rilascio perché se voi mettete in solo il compressore solo quello che state togliendo è a tempo si dice resti poggiato senza ostas nessuno ci ha mai dato le risposte ok resti poggiato al muro come un poster fessuti in queste strade senza ostas nessuno ci ha mai ok si dice che la compressione è a tempo questo può essere un metodo per aiutarvi all'inizio però questo compressore inizialmente io ho studiato su questo perché mi ha veramente fatto capire a cosa serve la compressione in quanto vi aiuta sia dal punto di vista grafico quindi potete vedere effettivamente che state facendo che dal punto di vista sonoro perché potete mettere in solo ciò che state comprimendo e questa è una prima cosa l'ultima cosa che voglio farvi vedere per oggi ragazzi è come vi dicevo all'inizio ci sono vari tipi di compressori e il passo successivo dopo aver capito come funziona il compressore è imparare i vari compressori ci sono alcuni compressori storici che si usano sulle voci che hanno fatto il sound e che continuano a fare il sound di tutte le hit mondiali ok che voi ascoltate che sono compressori storici tipo l'1176 la versione blu o nera l'LA2A l'LA3A il Pullshide insomma poi il 2500 dell'API questi poi ce ne sono il vertigo insomma ci sono tanti altri compressori questi compressori sono stati emulati in software ok e effettivamente danno qualcosa di diverso rispetto a un compressore digitale come può essere quello della FabFilter perché è utilissimo per fare determinate cose quando voi volete una compressione trasparente quello è veramente il compressore ideale quando dovete imparare a come comprimere quello è il compressore ideale però se vogliamo dare caratteristiche al nostro sound è chiaro che un compressore del genere non può bastare quindi ora vediamo come si comporta questo compressore cercheremo di fare gli stessi settaggi tra questo e quello e vediamo i colori differenti quindi sempre 4 decibel questo è la ratio 1 a 4 attacco e rilascio qui al contrario perché è un prodotto americano e quindi al contrario questo vuol dire attacco veloce e questo vuol dire attacco lento questo vuol dire rilascio veloce e questo vuol dire rilascio lento ok erano più o meno tutti i medi si attacco qui preciso e preciso non lo possiamo fare però si più o meno 11 millisecondi di attacco si è un attacco ok intorno a 5 5 non sono millisecondi eh ragazzi sono è una scala e rilascio medio compressione la sedi B in questo compressore non c'è la threshold perché l'architettura costruttiva di questo compressore è che la threshold è fissa è impostata e noi la quantità di segnale che va nella compressione non la regoliamo dalla threshold che si abbassa ma dall'input che noi diamo quindi la threshold è fissa invece di variare la threshold variamo il livello del segnale che è la stessa cosa nessuno ci ha mai dato le risposte ok resti poggiata al muro come un poster cresciuti in queste strade senza ostas nessuno ci ha mai dato le risposte allora là stiamo comprometto 6 decibel quindi abbassiamo un po' l'input e resti poggiata al muro come un poster cresciuti in queste strade senza ostas nessuno ci ha mai dato le risposte Ok Resti poggiato al muro come un poster Cresciuti in queste strade senza ostas Guardate come se io aumento l'attacco Il rilascio al massimo, quindi veloce Nessuno ci ha mai dato le risposte Ok Resti poggiato al muro come un poster Sentite l'effetto booming Muro, posta Questo ovviamente è da evitare Perché vuol dire che il compressore attacca veloce e rilascia veloce Quindi attacca, rilascia, passa il segnale Attacca, rilascia, passa il segnale E il segnale che passa quando il compressore viene rilasciato Ovviamente è ad un livello maggiore rispetto a quello che è stato compresso Chiaro Per cui essendo a un livello maggiore spicca E non va bene La traccia perde di solità Cresciuti in queste strade senza ostas Nessuno ci ha mai dato le risposte Ok Resti poggiato al muro come un poster Cresciuti in queste strade senza ostas Nessuno ci ha mai dato le risposte Ok Resti poggiato al muro come un poster Cresciuti in queste strade senza ostas Anche qua vedete come la voce è solida Anche qua vedete come la voce è solida E da qua passa in faccia Ora facciamo una B veloce tra questo e quello Nessuno ci ha mai dato le risposte Ok Resti poggiato al muro come un poster Cresciuti in queste strade senza ostas Nessuno ci ha mai dato le risposte Notate la differenza Questa è veramente una differenza sottile Come? Il primo compressore è trasparente La voce così come è in ingresso A livello di tono Dico io È in uscita Cioè quello che cambia è la compressione La solidità è il fatto che la voce passi in faccia Questo compressore invece Oltre a fare il lavoro di passi in faccia eccetera eccetera Colora anche il suono Gli dà un colore sulle medie Medio-alte Molto interessante Ok Resti poggiato al muro come un poster Cresciuti in queste strade senza ostas Nessuno ci ha mai dato le risposte Ok Resti poggiato al muro come un poster Cresciuti in queste strade senza ostas È una sorta di granulosità Intorno alle medie Medio-alte come dicevo prima Sarà intorno ai 3k più o meno Forse anche di meno 2k e mezzo E questo è dovuto alla circuiteria con cui hai fatto il compressore Perché ovviamente I circuiti introducono delle distorsioni armoniche Le quali si sommano alle armoniche della voce E tirano fuori questi caratteri E questi caratteri fanno il suono Ok Per cui Qui non è il Il luogo Adatto per spiegarvi Tutti i singoli suoni Anche perché Insomma Questo Vi chiederebbe Un ascolto di Cioè Dovete stare là ragazzi Sul pezzo Ascoltare Provare Riprovare Capire quali sono I colori Capire Che cosa vi serve Quello che non vi serve Come suona sto compressore Che colore volete dare Informarvi Sulle caratteristiche costruttive Perché se è un compressore Valvolare Avrà naturalmente Un carattere un po' più dolce Un po' più Colorato sulle medie o basse Invece se è a componenti discreti Avrà un carattere un po' più lineare Un po' più limpido Sulle medie o alte Quindi Sono tutte cose che dovete studiare E che dovete capire Se veramente volete imparare Cioè Volete imparare A comprimere Capire Questi colori È importantissimo Altrimenti Non farete mai lo step successivo Ma che compressore mettiamo qua? Ma sì Uno vale l'altro No Uno non vale l'altro Ogni compressore Ha un colore diverso Ok Bene Ricapitolando Attacco Rilascio Trishold E Rescio Questi qui sono Le principali I principali parametri Del compressore Come si settano In base a quello Che dovete fare Ricordatevi Attacco veloce Il compressore interviene prima Quindi ci ammazza I transienti Questo vuole aiutare Anche sullo snare Se lo snare Fate un attacco velocissimo Perdete lo snare Perché praticamente L'attacco dello snare Lo perdete Rilascio veloce Vuol dire che Dopo l'attacco Il compressore Smette di funzionare Tutto il restante programma Del segnale Non viene compresso Mentre Mentre Rilascio Lentissimo Vuol dire Che il compressore Praticamente Sta sempre attivato Quindi comprime Anche Le porzioni Di spettro Le porzioni di suono Successive All'attacco E questo Come abbiamo visto Può essere Nella voce Una cosa deleteria Perché Dà l'effetto Pumping Che noi Non vogliamo ottenere Se Invece Magari Ecco Poi dipende Se voi invece State comprimendo Delle doppie In cui volete Dare l'effetto Botta In quel caso Potrebbe essere Interessante farlo Però Dipende sempre Da quello Che state facendo Sulla lead Non ve lo consiglio Se invece Mettiamo L'attacco Al massimo Quello che succede È che il compressore Non interviene E quindi Non stiamo Comprimendo Questo esempio Non l'abbiamo fatto Mi sa E lo facciamo ora Giusto per capirci Attacco Al massimo Nessuno Ci ha mai Dato le risposte Ok Resti poggiata Al muro Come un poster Cresciuti In queste strade Senza ostas Vedete Praticamente Non comprime Nessuno Ci ha mai Dato le risposte Ok Bene ragazzi Allora Per stasera È tutto Vi ricordo Di iscrivervi Al canale Se siete interessati A servizi Di Mixmaster Produzioni Autotune Tutto ciò Che riguarda Il mondo Dell'ingegneria Del suono Della produzione Audio Anche Iscrivetevi Al canale E azionate La campanellina Se invece Siete degli artisti Rap Trap Del R&B E avete un progetto Musicale Che volete portare A livello successivo Candidatevi Fare una consulenza Gratuita con me E Parliamo del vostro Progetto In cantiere Cerchiamo di tirarlo fuori E di portare avanti Sul mercato musicale Un progetto Assolutamente Innovativo Inoltre vi ricordo Ragazzi Che abbiamo Da poco Lanciato Il nostro Bitstore In cui Troverete Dei bit Che potete acquistare E La peculiarità Di questi bit È che Non sono in formato Compresso Basta Scaricare Type bit Perché Dal punto di vista Sonoro Fanno schifo Poi I problemi Di licenza I nostri bit Sono totalmente free In termini di licenza Quindi potete utilizzarli Per dischi Album Tutto quello che volete Social E quant'altro Ovviamente Non li potete rivendere Ma questo è ovvio Però nessuno Vi verrà a rompere Le scatole Per diritti D'autore E quant'altro Anzi Se Con i nostri bit Ci fate le hit E diventate Ricchi E famosi Noi siamo Più che contenti Di questo Per tutti il resto Ragazzi Trovate tutti i link In descrizione Se siete interessati I nostri servizi Io sono Mr. Lob E Ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Chiuso nel Minerva Studio Cucino sto mix Cucino sto beat C'è lo bit Fra di muto Ti caccia la hit Ti caccia la hit C'è lo bit C'è lo bit C'è lo bit C'è lo bit